Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Sembra che la situazione non volga al meglio per il generale Vannacci, l'autore del fortunatissimo libro Il mondo al contrario. Infatti il generale Vannacci, abbiamo appreso nei giorni scorsi, è stato indagato per truffe peculato e come se non bastasse, apprendiamo ora, è anche indagato per istigazione all'odio razziale. Ora, su questo punto vorrei provare pacatamente a svolgere alcune considerazioni critiche. Anzitutto ricordando che, a mio giudizio, il libro del Vannacci è un libro intrinsecamente sbagliato. Come ho cercato di dire, ha ragione il Vannacci a riconoscere che vi è un mondo al contrario e tuttavia egli omette di specificare che i due pilastri del mondo al contrario sono il liberismo e l'atlantismo, che anzi, salvo errore, il generale non contrasta nemmeno per errore nel suo testo. Quindi il mondo al contrario esiste e il libro di Vannacci ne è espressione. Fatta questa premessa e dunque esplicitato il mio disaccordo di fondo rispetto alle tesi del Vannacci, come più volte ho sottolineato, sono in prima fila per battermi insieme a coloro i quali riconoscono che anche il Vannacci, a prescindere dalle idee giuste o sbagliate, a mio giudizio sbagliate, che difende, abbia il pieno diritto di scrivere, dire e presentare le proprie idee. In una democrazia anche chi esprime tesi diverse dalle nostre ha il sacrosanto diritto di farlo, questo deve essere un principio saldo. E a questo riguardo mi permetto di dire che leggendo con cura il libro del Vannacci, rispetto al quale, ripeto, non condivido l'impianto generale, non ho trovato istigazione all'odio razziale. Il libro del Vannacci, certo, dice una cosa discutibile, quella secondo cui la campionesse Go non rappresenta l'italianità, possiamo discuterne in lungo e in largo, però non è un'istigazione all'odio razziale. Sarebbe stata un'istigazione all'odio razziale se avesse detto X non esprime la italianità e dunque bisogna discriminarla, colpirla o punirla, cosa che il Vannacci non dice nemmeno vagamente nel suo testo. Quindi mi pare che l'accusa di istigazione all'odio razziale sia davvero inconsistente e che nel libro del Vannacci non vi sia alcun tipo di istigazione razziale. E lo dico, ripeto, senza condividere le tesi espresse dal libro e anzi criticandole per più versi in maniera pacata e argomentata.